Buongiorno, 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 c'è un solo modo per svegliarlo Alzare la serranda e fare entrare la luce E adesso? Adesso? Dudu, Dudu, Doria Dai, su che dobbiamo andare a scuola Dai amore, ma non puoi essere arrabbiato Dai, andiamo, al mio tre ti alzi E uno, e due, e tre Buongiorno a tutti e bentornati in un nuovo video Ovviamente mi scuso in anteprima per la visione di questa mattina Ma sapete che i miei vlog sono molto naturali Quindi sono le nove Le gallette al cioccolato, le gallette di riso al cioccolato E poi, se riesco, volevo farmi un tè Se riesco Avevo preso una che è questa, che è limone e zenzero E un'altra alla vetulla Che la vetulla fa molto bene E quello alla vetulla mi piace un casino Cioè, è tipo buonissimo Il problema è che l'ho scordato da mamma Perché ho passato qualche giorno da mia madre a dormire da lei Un po' di tempo, una settimanella fa E quindi mi è rimasto questo qui E io mi scordo tutti i giorni La mattina mi ricordo e dico No, a me ne serve quel tè alla vetulla E poi puntualmente la sera, al pomeriggio Mi scordo di andarla a prendere La cosa brutta è che a me lo zenzero non mi piace Cioè, in realtà, dovete sapere che è partito tutto quanto dalla mia gravidanza Cioè, quando ero incinta di Dorian Non avevo mai mangiato lo zenzero Perché ero piccola, avevo 17 anni Quando sono rimasta incinta E, insomma, non l'avevo mai assaggiato Oppure magari non mi ricordavo di averlo assaggiato Durante la gravidanza Per non rimettere Perché io ho sofferto di nausee dal primo al terzo mese Tipo, cioè, di nausee molto, molto, molto forti Della serie tipo che io non sono uscita di casa per tre mesi Perché io facevo letto, bagno Letto, bagno Mia madre ogni tanto mi dava qualcosa di mangiare al volo Però dopo un minuto lo rigettavo Perché soffrivo veramente di nausea Con la nausea proprio brutta E quindi mi diedero questo medicinale allo zenzero E da lì io odio lo zenzero Perché a me quel medicinale mi faceva proprio vomitare Cioè, più di quello che dovevo fare Cioè, più del vomito che avevo In più si aggiungeva questo medicinale che faceva cagare E mi faceva venire proprio il vomito in una maniera assurda Certo parlare di queste cose la mattina Quindi niente Quindi io da lì praticamente ho la nausea Ho il rigetto per lo zenzero La nausea no Però non mi piace tantissimo, ecco Però l'ho voluto provare, ecco Insomma, limone e zenzero So che comunque fa molto bene Quindi per la mattina cerco di fare uno sforzo Anche se già da l'odore Mamma mia lo zenzero Invece c'è gente a cui piace tantissimo Però devo dire che lo utilizzo anche molto per le centrifughe Cioè, non sono una che proprio non lo mangia per niente Però, ecco Non è che mi fa impazzire Non è una gran gioia mangiarlo Questo è un prodotto biologico Ed ha solo riso integrale italiano Ed è senza glutine Allora, come avete ben visto Sono mancata Da YouTube Mi sembra due settimane Quindi un bel po' di tempo qua Chi mi segue su Instagram Sa, insomma, perché sono mancata Non ho voglia di ripetermi qui Non ho voglia di Di aprire il discorso qui su YouTube Quindi, insomma Basta, insomma, per chi mi segue su Instagram Non perché io non voglio dirvi Cioè, che cosa mi è successo Anche perché su Instagram Cioè, l'ho andata a vedere Però non mi va proprio di parlarne Cioè, non mi va proprio di iniziare il discorso Non ho voglia, insomma Diciamo Abbiamo passato un brutto periodo In realtà Tuttora non è che, ecco Siamo felici Però Bisogna comunque andare avanti Soprattutto di fronte A queste cose Quando ho un dolore dentro Non fisico Ma un dolore emotivo No? Quindi che Che sto male Che ho qualche problema Eccetera Non amo condividerlo Non amo proprio condividere i miei dolori Le mie Le mie Le cose brutte Che mi accadono nella vita Non amo condividerle Mi piace Vivere il mio dolore da sola Quindi Isolarmi Non Ma anche da mio marito Cioè, nel senso Veramente proprio nella vita quotidiana Sono così Fatemi sapere se è una particolarità Proprio del segno del cancro Perché io non conosco nessuno del cancro Donna Uomini sì Ma donne no Quindi volevo capire se era Effettivamente una particolarità del segno Che è proprio così Che tende a proteggere il suo Il suo dolore, no? E quindi non volerlo condividere Non riuscirei a fare una storia Mentre magari io sto male O qualche Ho qualche problema Non riesco Ci vediamo dopo Io continuo a mangiare Allora Velocemente Ci andiamo a Dare una sistematina Utilizzo subito Una crema nutriente Questa Dedequilibra Che mi ci trovo benissimo È naturale Vado a praticamente Terminare Il correttore Che sto utilizzando ultimamente Che è questo Della Naked Naked Skin Urban Decay La mia colorazione È la Light Warm È praticamente finito Mi è durato Da Natale a Santo Stefano Perché io Fondo tinta Non amo tanto Utilizzarlo Anche perché Quello che ho io Cioè Quello della NYX Con cui mi ci trovo bene È troppo pesante Devo dire che Non lo ricomprerò Non lo ricomprerò Perché Non Non mi ci trovo benissimo Non è Non è tanto coprente Come Non è tanto coprente Perché alla fine Quello che compravo io Quello della Maybelline Che mo' Non so se c'ho Che è quello lì Quella Ho fatto queste unghie Lunghissime Cioè Bellissime Per carità di Dio Però Lunghissime E Mi cego ogni porta l'occhio Comunque L'ho pagato tanto Perché questo correttore Costa 29 euro Quindi un botto Però ho detto Voglio provarlo Perché sai I correttori Sono molto Abitudinaria Quindi io Diciamo Se utilizzo una cosa Me la porto Me la porto appresso Per un bel po' di tempo E quindi utilizzavo sempre Quello della Maybelline Che costa 8 euro Fantastico E la qualità Di quello della Maybelline È molto più alta Di questo qui E costa La metà Della metà Del prezzo Quindi diciamo che Vabbè Ho voluto provare Ma Sinceramente Per il costo che ha Non ve lo consiglio Quindi Non lo ricomprerò Quindi questa mattina Ci prendiamo cura Di noi Perché io A parte io Quando vado lì Chiacchiero un casino Con lei Perché ormai Abbiamo avuto Abbiamo un sacco di confidenza Che Tiziana Perché è solo Tiziana Che fa questo trattamento Sono 12 anni Che li fa lei Lei è proprio specializzata N'endosfera Questo trattamento Vi va proprio Lei lo passa Sia sulla pancia Cioè Dipende se Vuoi Dove vuoi focalizzare Il trattamento Io ovviamente Glutei e gambe Il sedere Mi si è alzato Un casino Ma in realtà Non solo il sedere Mi si sono alzati Proprio i tessuti Perché ovviamente All'inizio farà Una tecnica di drenaggio Quindi Aiuterà insomma Le gambe a sgonfiarle E a togliere tutti i lipidi Magari in eccesso Comincerà insomma Ad andare un pochino Più forte Ad aumentare la potenza Del macchinario E inizia a fare Il rimodellamento Dei tessuti Quindi insomma Per rimodellando I tessuti Ovviamente Si tira tutto quanto su Ed è una favola Io lo amo Come trattamento Infatti Una volta finito Ho intenzione Di fare assolutamente Il mantenimento Il mantenimento Basta una volta al mese E comunque Se siete interessate Perché io Ovviamente posso consigliarvi Dove vado io Spesso mi chiedete Nadia dove lo fai Nadia Insomma Ci ripeti come si chiama Si chiama Endosphere Therapy Ve lo scrivo Nell'info box E dove lo faccio io E a Roma A via Trastevere Tipo lì vicino Vicino Trastevere Quindi al centro E vi lascio magari Tutti i loro indirizzi E se volete Fare una prova Gratuita Perché loro non è che Cioè la prova gratuita Non consiste nel Parlare Quindi Non è che Ti fanno Una Come si dice Non è un incontro parlato Cioè tu vai là E proprio di fare La prova Del macchinario Su una gamba In modo tale che Siccome i risultati Sono immediati Già li vedi da subito Perché va proprio Ad esfoliare Tutta la tua pelle Potrete insomma Vedere i risultati E poi decidere Se farlo o meno Grazie Mascara messo Adesso velocemente Vado a mettermi Un rossettino al volo Questo qui di Kiko Lo 02 Un rosa Chiaro Come è tardissimo Questo è il look Quindi come vedete È molto semplice Come vedete Non ho fatto nulla Di che Con piccoli accorgimenti Con il mascara giusto Che ti allunga le ciglia In una maniera Spropositata Devo dire che Il look è venuto bene Quindi niente Io vado a vestirmi E oddio Vado a sistemarmi Un attimino i capelli E ci vediamo dopo Ok ragazzi Io sto facendo Il massaggio Già abbiamo fatto La parte La parte Superiore La parte davanti La parte davanti Mi ha anche Mi ha anche Drenato le braccia E niente Adesso stiamo facendo Gambe e glutei Abbiamo coperto Il sedere Così almeno Non vi scandalizzate Sia mai Che vedete Insomma Tutto quanto Siamo andati al cinema Abbiamo visto Ted Bundy Che è Un film Che praticamente Racconta Della storia Realmente accaduta Di uno dei serial killer Più atroci Di tutta la storia Negli anni 70 E a parte Vabbè L'attore Ragazzi Amate Zac Efron Dovete assolutamente Vederlo Perché adoro E Ma è talmente Forte come film Perché poi alla fine Di tutto Fanno vedere anche Le scene reali Cioè della realtà Quindi tutte le riprese Di lui Quindi vedrete La sua faccia Le sue dichiarazioni Quindi sentirete La sua voce Il fatto che lui Si professava Innocente Quindi Lui era condannato All'ergassolo E successivamente Alla pena di morte Per aver ucciso Il culo più bello Il culo più bello di Roma Il marito ringrazia Il marito si è vero Patrizio è contentissimo Di questo gluteo Fantasmagorico Praticamente abbiamo Buttato la lavatrice Perché è praticamente Da quando conviviamo Che abbiamo quella lavatrice Quindi calcolate Conviviamo da Oddio Da sei anni E quindi sono sei anni Che abbiamo quella lavatrice Stavolta abbiamo comprato La Indesit La Indesit Da otto chili In modo tale Che riusciamo A fare entrare Più roba possibile E domani Arriverà la lavatrice Dalle due e mezza Alle cinque e mezza Mi ha dato l'orario Me la porteranno loro E in più Si prenderanno Quella vecchia Così insomma Secondo me È un ottimo servizio Anche perché ho pagato Trenta euro in più E con trenta euro Appunto Te la portano Te la montano E ti tolgono Anche quella vecchia Perché comunque Quella vecchia pesa Quindi se la sarebbe dovuta Incollare Patrizio Ed è pesante Mia madre voleva buttare Questa scarpiera E ho detto Senti ma lascia verde Non la buttare Perché è comoda Perché è molto stretta Però ha un sacco Di piani Quindi riesco Comunque ad incastrarla E a metterci le scarpe Anch'io Poi dopo a casa Vi faccio vedere Un'altra scarpiera Che ho preso Da Song Mix Che oltretutto Fa parte di un giveaway Che appunto Potrete vincere voi Quindi La scarpiera La stessa scarpiera Che ho io O altrimenti Quella più grande Perché praticamente In palio Ci sono Tre premi Una è la scarpiera Alta Che magari Vi lascio La foto qui La scarpiera alta Altrimenti C'è la scarpiera Che ho preso io Che è questa qui Della foto Altrimenti C'è il portavini Portavini Credo sì Però io Non ci facevo Niente Quella alta Non l'ho presa Perché appunto Volevo prendere Questa Quindi sarebbe stato Un pochino Inutile Prenderne Un'altra alta A questo punto Ho preso Quella bassa In modo tale Che ho Entrambe le cose Per partecipare È facilissimo Basta cliccare Sul link Che vi lascio Giù Nel box Informazioni E credo Vi chiede Di inserire Solamente La mail E il giveaway È partito Quindi poi Ci sarà un sorteggio A fine mese Dove Song Mix Appunto Sceglierà I vincitori Che non so Quanti ce ne stanno Credo ce ne stanno Trenta Allora Io adesso Per merenda Volevo preparare A Dorian Il melone Sei lavato le mani? Do? Dorian Dorian Vatti a lavare le mani Adesso Taglio Qualche fettina Di melone Sperando Che è buono Perché poi Effettivamente Questo No cazzo Vedete Io so proprio Una frana A tagliare la frutta Effettivamente Questo è il primo Melone Che compro Insomma Il primo melone Che compro Voglio dire Quindi Non è che c'è Da aspettarsi Chissà Che cosa Allora Sto aspettando Intanto io sto tagliando La frutta Coltellone enorme Sto aspettando Patrizio Che torna dal lavoro Perché Oggi pomeriggio Andiamo A segnarci In palestra Adesso Mi sono sempre Allenata In casa Quindi non mi sono Mai allenata Quindi non Non Facevo palestra In una struttura Ma un suo amico Praticamente Ha trovato una palestra Che non costa tantissimo E quindi Insomma Non ti pesa Più di tanto Perché Il fatto Non è che uno Non vuole pagare La palestra Perché alla fine ci può anche stare Insomma che tu vai in palestra E la paghi Quindi non è quello Che pesa Ma il fatto che Abbiamo pagato un anno Fino ad aprile Noi avevamo la palestra pagata Non andava più di andare Perché Praticamente Quando ci siamo segnati E ci eravamo organizzati Di andare Insieme Io e lui Quindi insomma Io odio andare in palestra Da sola Proprio odio Cioè un conto farla a casa Un conto è andare in palestra Da sola Che poi io Lavoravo l'anno scorso Mi hanno cambiato i turni Quindi non riuscivo più A combaciare i miei turni Con i suoi E quindi non potevo andare più In palestra con lui Ho provato ad andarci un pochino Vieni Ho provato ad andarci un pochino Da sola Ma mi rompevo veramente le palle Ragazzi Non mi andava Non ce la facevo La palestra era strapiena di gente E insomma Non mi andava E quindi non ci sono più andata Dorian Che melone E ci vado Perché ci viene anche Nicole Perché Nicole è anche Insomma entusiasta Di questo fatto Che costa poco Perché costa 30 euro Non è tanto Vicino a casa mia E la cosa che loro fanno Puntano sul fatto Di farti pagare poco Però ti fanno Una sorta di contratto Tra virgolette Che ti devono togliere Per forza Per un anno Quei 30 euro Dalla carta Niente ragazzi Io adesso mi mangio Un'altra fettina di melone Dorian anche Sta mangiando Com'è buono Dorian sta mangiando Il melone Io mi mangio Una seconda fettina Aspetto Atrizio Che torna E poi insomma Vi faccio sapere Niente ragazzi Non ho i dischetti di cotone Io vi avevo Addirittura posizionato Comunque non fate Casa i capelli Ma sono tornata Dalla palestra Sono distrutta La palestra Bellissima Ci piace un casino E giovedì Torniamo E ci segniamo Insomma Poi il prezzo È super conveniente Calcolate Vi dico che Maggio Non lo paghiamo È finito quasi Però Non so Queste due settimane Comunque sono gratuite Poi giugno Luglio E agosto Li paghiamo Un euro Al mese E poi insomma Da settembre A altri nove mesi Quindi un anno intero Compreso Giugno Luglio Agosto Paghiamo 28 euro Quindi Niente La palestra è molto bella Cioè Mi piace veramente tanto E Niente Quindi mi sono fatta Con Nicole Un sedere tanto Infatti sono stanchissima Ho le gambe Tipo che tremano Perché abbiamo Spinto tantissimo Sulle gambe E sui glutei Comunque Vabbè Io adesso Volevo Struccarmi un attimino Con voi E poi Volevo dare una lavata A tutto il bagno Al volo Sui sanitari almeno Mi sono struccata Proprio Bellissima Allora Mi sono alla fine lavata Con Ho passato lo struccante Così Insomma L'ho Non riesco a parlare L'ho passato sul viso E poi l'ho risciacquato Sono riuscita Comunque a struccarmi Lo stesso Adesso Vi faccio vedere Che cosa sto utilizzando Da un bel po' di tempo Che è Una crema Contorno occhi Della Lea Natur E mi ci trovo Veramente bene Perché mi ha Un sacco Schiarito le occhiaie E Questo lo utilizzo Ovviamente Solamente La sera Prima di andare a letto Ne metto Veramente una cucina Ne basta Veramente poca E vado A Proprio a Massaggiarla Fino a che Insomma Non sento Che la crema È stata assorbita Per benino Continuo comunque A massaggiarla Ok E ho fatto questo movimento Per fare Diciamo Un lifting Naturale Ok Poi Poi Dopo aver Messo La crema Contorno occhi Utilizzo Lei Che è Per le macchie Barra Brufoli Che mi ha aiutato Tantissimo Con i brufoli Che io Ho avuto Per un po' di tempo Sulla fronte Che non si volevano Togliere Anzi Alcuni Si erano addirittura Tipo cicatrizzati Tipo rimanevano lì Non si toglievano Neanche a pagarli Ora Non fate caso A questi due Magari Questo Ecco Questi brufoli Un pochino Più grandi Mi sono venuti Perché ho Le mie cosucce E quindi Come sempre Quando le mie cosucce Mi escono Questi un po' più grandi Ma io parlo Proprio di sfogo Cioè io ho avuto Per un periodo Uno sfogo Molto 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 Violento Violento Se si può dire così In una forma Molto grave Sulla fronte Ne avevo veramente tanti E io ora Non lo so Se dare il merito A questo prodotto Ma la ragazza Che mi ha fatto Le sopracciglia Fa anche questo trattamento Che in realtà Si fa con Il roll Che è praticamente Un roll Con Praticamente La La spatola Quella che Scusate i termini Tipo non Non assolutamente esatti Dove c'è il roll Che appunto Va passato sulla velle È tappezzato Di microaghi Quindi praticamente Se fate il trattamento Da lei Ve lo passa Talmente veloce Sul viso Che vi fa Tipo uscire Il sangue Dal viso Però so che fa bene Insomma Ora non so Nello specifico Perché non mi sono Informata Però da quando Lo utilizzo Insomma Mi si sono tolti Questi brufoli Cioè Nel senso Quindi Io Mi si trovo bene Poi È assolutamente Leggero Non è Io lo passo Tutte le sere Anche se a volte Sono stanchissima E non mi va Di distruccarmi È assolutamente Importante Far respirare La pelle Della notte Perché Perché la notte Deve respirare E poi c'è Quando ad esempio Non mi struccavo Capitava spesso Che avevo I cuscini Tipo Impraninati Tipo di fondotinta O di correttore Quindi Non è assolutamente Carino Ok Dopo un po' Diventa tipo appiccicosa Infatti Tendo a fare Questo movimento Qui Ok Per farlo assorbire Ancora Ancora meglio E poi Ne metto Un pochino Zona fronte Ok Spero tanto Che questo video Vi sia piaciuto Vi mando Un bacio E ci vediamo Ci vediamo Al prossimo video Non vi so dire Quando Perché molti Mi chiedono Quando è la scadenza Dei due video Quando è che Escono Magari un giorno Chissà Saremo un po' Pi professional E vi dirò Anche I giorni Solitamente I video miei Escono dopo le 18 Quello Su quello è sicuro Cioè Sull'arario Più o meno Dopo le 18 Quasi sempre Esce un video Cioè Quando devo uscire Esce il video Ragazzi Ti voglio bene 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 Ti voglio bene